18 febbraio 1925. Viene fondato a Roma l'Istituto Giovanni Treccani per la pubblicazione della enciclopedia italiana e del dizionario biografico degli italiani. Il progetto nasce per iniziativa dell'industriale Treccani e del filosofo Giovanni Gentile. L'istituto avrà come presidenti, fra gli altri, Guglielmo Marconi, Luigi Einaudi, Gaetano De Santis, Rita Levi Montalcini e si confermerà negli anni come la massima impresa italiana di ricerca.